Sono Painkiller Maniacs. Lascio questo messaggio così che qualcosa vada male rimarrà comunque una traccia. Mercoledì 3 maggio 2017 sono stato incaricato da Wasteland di recuperare uno dei soggetti più malati e squinterrati di sempre, Killer Maru. Questo soggetto sparì 10 anni fa, ma in qualche modo è riuscito a mettersi in contatto con me grazie al mio intercom ed ora ho trovato questo nastro. Ho quasi finito di decifrare il processo di evocazione e so dove andare a effettuare il rito. Qualsiasi entità, persona o cosa che verrà fuori da ciò non lo so e mi scuso anticipatamente con tutti se qualcosa andrà a male. Qualsiasi entità, persona o cosa che verrà fuori da ciò che verrà fuori da ciò che verrà fuori. Oh il Ah Fuck uoh uoh uoh